Milano Pavia News, edizione Pavia, buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale, andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Nuovo terremoto per la Cantina Sociale Terre d'Oltrepo, il CdA è decaduto a meno di un anno dalla sua elezione dopo le dimissioni di quattro consiglieri, ora i soci dovranno tornare a votare. La superstrada non risolverà i problemi del traffico e danneggerà la Valle del Ticino e la posizione della consulta per l'ambiente del comune di Vigevano che ha motivato le ragioni del no all'opera. Il PM di Milano Clerici ha chiesto di applicare la misura di sorveglianza semplice per l'attivista vogherese di ultima generazione Simone Ficicchia. Questa mattina il presidio di solidarietà davanti al Tribunale. Saldi invernali a Pavia, alcuni commercianti sono dubbiosi, ma non mancano i negozi dove l'avvio degli sconti ha portato una ventata di ottimismo. Per molti però sono iniziati troppo presto. Anche Cassol Novo ricorda Gianluca Viali, l'attaccante della Nazionale scomparso per un tumore al pancreas nel 2015 aveva aiutato la Pro Cassolo a salvarsi grazie a un reality show. Queste dunque le notizie principali della giornata, l'avete sentito dal sommario, un nuovo terremoto alla Cantina Sociale Terre d'Oltrepo con il CDA decaduto dopo le dimissioni di quattro consiglieri che in una lettera hanno spiegato che la Cantina ha bisogno di una nuova governance e quindi ora i soci dovranno tornare al voto. Dopo meno di un anno dalla sua elezione il nuovo Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale Terre d'Oltrepo è caduto a seguito delle dimissioni di quattro consiglieri recapitate martedì durante la riunione in cui si sarebbero dovuti rimpiazzarne, cooptare, tecnicamente, altri tre che si erano dimessi l'autunno scorso. Dopo queste i consiglieri erano scesi da 13 a 10 e dopo l'ultimo CDA sono rimasti in sei, troppo pochi. Dopo un lungo periodo di confronti all'interno del gruppo abbiamo deciso a malincuore, hanno spiegato in una breve nota i consiglieri dimissionari, questo difficile passo perché l'azione di governo della Cantina non andava nella direzione che noi auspicavamo. Purtroppo dopo solo un anno riteniamo giusto tornare alle urne per far sì che si costituisca un nuovo CDA più coeso per affrontare le difficili sfide che ha di fronte la cantina. Così i quattro agricoltori dimissionari hanno sottolineato la necessità di una nuova governance in questo difficilissimo momento che sta attraversando la cooperativa, la più grande della regione, con 700 agricoltori soci che, assieme a un clamoroso calo di produzione e fatturato dovuto alla vendemia scarsa per la siccità ai costi di produzione e dell'energia alle stelle, doveva ritrovare un nuovo gruppo dirigente dopo solo 10 mesi di attività di quello uscente che avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso dopo la presidenza di Andrea Giorgi. Resta in bilico dunque anche la questione del contratto di solidarietà per 68 dipendenti che si sarebbe dovuto definire nel mese di gennaio con i sindacati. Voltiamo pagina, torniamo adesso a parlare della superstrada Vigevano Malpensa perché è la consulta delle associazioni ambientaliste, in comune ha ribadito ancora una volta il suo no all'opera, questo perché non servirebbe, l'opera non servirebbe secondo le associazioni a risolvere il problema del traffico perché manca il collegamento con la tangenziale oveste di Milano. Un fronte del no tutto vigevanese contro la superstrada per Malpensa. A intervenire la consulta delle associazioni ambientaliste del comune di Vigevano, la strada sostengono non risolverà i problemi del traffico e danneggerà la Valle del Ticino. Che anche nella città ducale ci fosse un movimento ambientalista contrario all'opera era cosa nota da tempo, ma è la prima volta che arriva una presa di posizione ufficiale così dura e argomentata. La consulta ambiente, attraverso il presidente Massimo Gallina, ha inviato ad ANAS un documento a seguito della partenza del procedimento sugli espropri iniziato ai primi di dicembre che nelle prossime settimane dovrebbe vedere convocata a una conferenza dei servizi. Si contesta sostanzialmente che nel progetto depositato manchi il collegamento con la tangenziale oveste. Occorre precisare che il procedimento attuale riguarda la tratta C Vigevano al Bairate e la tratta A al Bairate Magenta, mentre esclude la tratta B al Bairate tangenziale oveste. Nonostante ultimamente sia stata espressa la volontà politica di costruire anche quest'ultimo tratto che collegherebbe effettivamente la superstrada a Milano, negli atti ufficiali per ora non compare, anche perché non è previsto il finanziamento. Secondo la consulta, l'eliminazione della tratta B verso Milano, anziché alleggerire i flussi di traffico, esaspera la situazione. Il traffico aumenterebbe senza avere un effettivo sfogo in direzione Milano. La consulta chiede di fare un nuovo studio di impatto ambientale, ricordando che già il TAR aveva mosso contestazioni in questo senso. Viene inoltre sottolineato come negli ultimi anni ci sia stato uno sviluppo dell'agricoltura nei terreni interessati dall'opera, con conseguente aumento dei potenziali danni derivanti da espropri e costruzioni. Il progetto definitivo, insomma, si inserirebbe in un contesto territoriale e ambientale del tutto diverso da quello dell'epoca in cui l'opera era stata originariamente pensata, circa 20 anni fa. La consulta si dichiara in conclusione contraria, suggerendo la valutazione di un progetto alternativo e meno impattante. Parliamo ora del caso di Simone Ficicchia, l'attivista del movimento ambientalista ultima generazione che rischiava di vedersi infliggere una richiesta di misura di sorveglianza speciale per un anno. Oggi era prevista l'udienza al Tribunale di Milano. I PM hanno chiesto di riqualificare l'accusa, hanno proposto una misura della sorveglianza semplice. Davanti al Tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà nei confronti proprio di Ficicchia. Da sorvegliato speciale, secondo il codice antimafia, sorvegliato semplice per un anno, senza obbligo di dimora a Voghera, la sua città. Questa è la misura richiesta martedì mattina dai PM milanesi durante l'udienza dedicata al caso di Simone Ficicchia, l'attivista ambientale ventenne del movimento Ultima Generazione, definito dalla questura di Pavia, socialmente pericoloso dopo i vari blitz in luoghi simbolici d'Italia, fra cui la scala di Milano, imbrattata ad inizio dicembre, e quello degli uffizi di Firenze, dove incollò le mani alla primavera del Botticelli per chiedere al governo lo stop agli investimenti in fonti di energia non rinnovabili. I giudici decideranno entro 30 giorni la sua sorte, sebbene la sola richiesta della questura di Pavia nei suoi confronti abbia già sollevato un'ondata di proteste. Fuori dal tribunale, martedì, un centinaio di giovani hanno manifestato per sostenerlo, prima di recarsi poi in questura a Milano, chiedendo di essere arrestati per la loro solidarietà, mentre diversi esponenti nazionali della politica e della cultura, da Marco Cappato a Gadlerner, hanno preso le parti di Simone. Sono a processo perché mi sono reso conto che i governi non stanno rispettando degli accordi che andrebbero a beneficio di tutte le persone e ho deciso di farlo notare, ho deciso di farlo notare in maniera non violenta, anche a costo di disturbare delle persone, ma crediamo che questo metodo di lotta sia necessario in questo momento e quindi ho deciso anche di sacrificare eventualmente parti della mia vita e accettare le conseguenze legali di questo per portare avanti qualcosa che è per il bene comune. Certamente è una precisa dimostrazione che lo Stato, i poteri non vogliono avere una soluzione effettiva per questa situazione che tutti stiamo vivendo. Basta vedere oggi, sembra di essere in primavera, il cambiamento climatico è in atto, dobbiamo fermarlo e Simone con tutti gli altri amici e militanti fa in modo almeno di portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo problema ed è assolutamente ingiusto che venga colpito in questo modo. L'Italia è il sesto investitore di soldi pubblici al mondo, più della Russia e dell'Arabia Saudita, in combustibili fossili, nella nostra morte. Investiamo in multinazionali straniere, in un momento in cui una famiglia su cinque non riesce a pagare le proprie bollette. Vogliamo che si smetta di trivellare nuovo gas perché lei, signora Presidentessa, era d'accordo con noi nel 2016 ma appena ha raggiunto il potere ha cambiato velocemente idea e chiediamo anche di attivare immediatamente nel 2023 ulteriori gigawatt di olio e solare. Ne vogliamo 20, è una richiesta minima per cominciare a rispettare gli accordi europei. Restiamo sulla cronaca, questa mattina è scattato un allarme per un incendio in via Luigi Porta, in pieno centro storico a Pavia. Il rogo si è sviluppato attorno alle 6 e mezza nei sotterranei del collegio Riboldi dove sono alloggiati gli studenti di Eusenter. Le fiamme sono state spente velocemente ma il fumo si è propagato nella struttura e ha costretto i 25 ospiti a evacuare le stanze. La situazione è poi tornata alla normalità nel giro di poche ore. Parliamo d'altro, diversi comuni del Pavese riceveranno un finanziamento regionale per aiutare il commercio di vicinato ma anche per andare a intervenire nei centri storici. Sono oltre 160 mila euro i fondi stanziati, il comune capofile è quello di Santa Cristina e Bissone. Oltre 160 mila euro di contributi per aiutare il commercio di vicinato e consentire di realizzare interventi di rigenerazione urbana. Si tratta di fondi regionali ottenuti dal distretto Terre di Fiumi e Tradizioni formato da sette comuni, Santa Cristina e Bissone e Lente Capofila mentre le altre realtà coinvolte sono Badia Pavese, Chignolo, Inverno, Miradolo, Monticelli e Villanterio. Le risorse economiche garantite da Regione Lombardia saranno integrate da cofinanziamenti comunali delle realtà interessate e permetteranno di intervenire con la valorizzazione dei centri storici e delle piccole attività commerciali ed artigianali. A Santa Cristina e Bissone, ente capofila del distretto, sarà realizzata una nuova piazza con spazi verdi a disposizione della cittadinanza. L'obiettivo dei comuni coinvolti nel progetto è di rivitalizzare i centri storici con interventi volti alla creazione di spazi di aggregazione sociale. Il contributo totale ammonta 162 mila euro e permetterà di migliorare l'arredo urbano e potenziare al tempo stesso i servizi offerti alla cittadinanza delle sette realtà del Pavese coinvolte nell'iniziativa. È fissato per domani, mercoledì 11 gennaio alle 14, presso la chiesa di San Giorgio a Villanterio l'ultimo saluto al dottor Giuseppe Scevola, il pediatra molto amato e conosciuto in tutto l'Oltrepo da generazioni di bambini e genitori, è mancato improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì suscitando un grande cordoglio. Parliamo d'altro, ci spostiamo a Casteggio dove si è svolta la due giorni di congresso della CGL, l'ottavo congresso della CGL, un momento di confronto, di dialogo per tutti gli iscritti per parlare dei temi fondamentali per la provincia come quello del diritto alla salute e del lavoro. Sentiamo. Lavoro, salute e sostenibilità in tutte le sue forme, questi temi al centro del dibattito durante l'ottavo congresso della CGL di Pavia svoltosi alla Certosa Cantù di Casteggio lunedì e martedì, al termine del quale è stata riconfermata alla guida del sindacato il segretario uscente Deborah Roversi. Prima di lei, nelle ultime settimane, erano stati confermati gli 11 segretari in carica per le varie categorie. Si parla di lavoro, si parla di cambiamenti, si parla di trasformazioni nel mondo del lavoro e non solo. La mia relazione conteneva diversi passaggi relativi proprio alle grandi trasformazioni che in parte auspichiamo anche relative proprio al territorio, alle sue funzioni e abbiamo provato ad aprire una riflessione a partire dai bisogni dei cittadini e delle cittadine e dalle emergenze che noi rileviamo essere presenti e attualissime. Fra gli oltre 39.000 iscritti al sindacato pavese nel corso di 334 assemblee dei lavoratori sono stati eletti 154 rappresentanti che hanno partecipato al congresso di Casteggio al termine del quale sono stati designati 101 componenti dell'assemblea generale della provincia di Pavia. Tutta la relazione si intreccia con il tema appunto della sostenibilità ambientale e del grande percorso che andrà fatto per migliorare anche dal punto di vista della qualità dell'ambiente, dell'utilizzo delle risorse, dello sfruttamento ragionato delle risorse. Quindi la salute che è intesa anche come possibilità di attivare un'industria della salute quindi provare a captare realtà produttive, start-up innovative che a partire dalla ricerca e qui sarà fondamentale il ruolo dell'università provino a generare un tessuto economico nuovo, innovativo e capace di guardare alle necessità e ai bisogni di cui abbiamo parlato. Conclusi i congressi dei sindacati di categoria regionali, in programma nelle prossime settimane fino alla fine di gennaio, ai primi di febbraio si terrà il tredicesimo congresso della CGL Lombardia-Milano mentre il percorso congressuale nazionale, il diciannovesimo, si concluderà a Rimini dal 15 al 18 marzo. Il comune di Pavia per il 2023 ha rinnovato il servizio di trasporto per le persone fragili e residenti in città. L'amministrazione ha stanziato circa 55 mila euro che serviranno a permettere a queste persone di accedere ad uffici e a servizi pubblici. Effettuare le piccole commissioni quotidiane come recarsi in comune oppure ad una visita medica possono rivelarsi autentiche montagne da scalare per le persone con disabilità. Il loro soccorso arriva allora al settore dei servizi sociali del comune di Pavia che anche per il 2023 ha rinnovato il servizio di trasporto per le persone fragili residenti nel capoluogo e in carico agli uffici di Palazzo Saglio. Il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, è di 55 mila euro, fondi che servono per il pagamento dei soggetti accreditati per la gestione del trasporto. Si tratta dell'Associazione Servizi Sociali Autogestiti Onlus, dell'Associazione Aiutiamoci il Sole Onlus e della Fondazione Costantino. Il servizio consente alle persone fragili di Pavia di fruire delle prestazioni sanitarie, di accedere ad uffici e servizi pubblici e facilitare i rientri in famiglia di minori collocati in strutture educative o specialistiche al di fuori del territorio cittadino, come da progetto di intervento o come disposto dall'autorità giudiziaria. Il servizio proseguirà dunque anche per l'anno in corso, nel rispetto della libera scelta degli utenti, in carico ai servizi sociali di uno dei tre soggetti accreditati alla gestione del trasporto. Obiettivo del Comune di Pavia è eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia dei cittadini. Il Comune di Vigevano ha invece deciso di estendere fino alla fine dell'anno scolastico il servizio di mensa gratuita per i bambini ucraini nelle scuole cittadine e si tratta della prima delibera della giunta di quest'anno. Mensa gratis fino a fine anno scolastico per i bambini ucraini arrivati a Vigevano per scappare dalla guerra. E' questo il contenuto della prima delibera dell'anno della giunta comunale. A quasi un anno dall'inizio dell'invasione russa, il flusso di profughi provenienti dall'Ucraina si è praticamente azzerato. Sono diverse però le famiglie arrivate lo scorso anno che ancora si trovano su territorio vigevanese. Per loro l'impegno del pagamento del buono pasto rappresenta un'oggettiva difficoltà. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare, anche per il 2023, il provvedimento che riserva ai profughi e la gratuità della mensa. Il beneficio è riservato alle famiglie già presenti in città e prese in carico dal servizio di prima accoglienza. Se dovessero arrivare altri nuclei familiari, per loro sarà obbligatorio il passaggio al segretariato sociale prima di ottenere l'esenzione. Il provvedimento riguarda gli iscritti alle scuole statali frequentanti corsi a tempo pieno. Lo scorso anno la questione delle mense scolastiche per i bambini scappati dalla guerra mosse roventi polemiche. Il comune di Vigevano venne accusato da più parti di aver assunto un atteggiamento attendista nella speranza che le spese venissero coperte dal volontariato e di essersi occupato del problema in ritardo. Quest'anno invece si è deciso di agire con tempestività e prolungare immediatamente il provvedimento scaduto con la fine del 2022, in modo da poter dare pasti gratis ai bimbi ucraini con la ripresa delle scuole dopo le vacanze natalizie e non lasciare nemmeno un giorno scoperto. Torniamo a Pavia dove, come in altre città della Lombardia, sono partiti i saldi invernali. Tra i commercianti filtra un tenue ottimismo e c'è chi pensa però che questi saldi siano iniziati troppo presto. I saldi, come vedete, sono iniziati ormai da qualche giorno all'interno dei negozi, del centro storico di Pavia e non solo, andiamo a vedere come stanno procedendo gli affari. Per noi è in ribasso i saldi rispetto all'anno scorso e due anni fa, è in continuo regresso. Allora, il primo bilancio non è né positivo né negativo, abbiamo lavorato un po' di più il primo giorno, l'epifania, poi il weekend proprio sabato e domenica non si è lavorato niente. Causa un po' magari il mal tempo che la gente andava nei centri commerciali. Trascorso il primo weekend di saldi a Pavia abbiamo voluto fare un breve viaggio tra le attività del centro storico per provare a tracciare un bilancio parziale sugli affari. In molti si sono mostrati dubbiosi, ma non mancano i negozi dove l'avvio degli sconti ha portato una ventata di ottimismo. All'inizio dei saldi diciamo discretamente bene, non mi posso lamentare alla fine, io ho tutta roba di qualità, prezzi giusti sia col prezzo di listino e poi applichiamo i soliti 20, 30, 40, 50 in base a quello che è finito di collezione settembre 2022. Non abbiamo roba vecchia. Un leggero incremento rispetto all'anno scorso, quindi forse anche perché è Natale, sono stati un po' ben dietro, quindi adesso con i saldi e gli sconti abbiamo avuto questo leggero incremento. Vediamo le prospettive, insomma anche il tempo, le belle giornate anche di oggi, se portano in giro la gente a spendere un po' di più. Insomma i pareri sono diversi e si basano principalmente sull'esperienza personale. Non mancano nemmeno le soluzioni creative come quella di un ottico di corso Cavour che guarda anche al sociale. Una sorta di scontistica nel mese di gennaio appunto dei saldi che è un'iniziativa chiamata Rottamazione che facciamo il 50% di sconto su tutto l'occhiale completo, quindi sia sulla montatura che sulle lenti e come funziona? Il cliente ci deve donare, diciamo, dare il suo vecchio occhiale e che questo suo vecchio occhiale verrà rigenerato e dato a degli enti benefici da noi e avrà diritto appunto al 50% di sconto sul nuovo occhiale. Ma c'è un punto su cui molti commercianti si trovano d'accordo, la partenza dei saldi dovrebbe essere spostata. Sono veramente troppo presso questi saldi qua perché tanta gente viene dentro, si sente un po' anche magari fregata perché dice io per Natale ho preso un corso prezzo pieno e adesso me lo trovo saldo. Non è caso nostro perché noi la roba dell'annata in saldo per onestà non la mettiamo. Io sostengo che oramai sono scaduti in questo senso, porto sempre l'esempio, quando i negozi contavano qualcosa come associazione così i saldi sono nati per fare quello invernale, partivano il 15 di marzo, quindi avevano una giustificazione per i tre componenti del triangolo di cui chi vende, chi compra e chi, direi, compra, l'ha comperato prima di Natale, che ha pagato 100 l'articolo che adesso se lo vede fuori è 70-60. Guardi, per conto mio, verso come una volta, una volta li facevano febbraio, ma almeno dal metà gennaio in poi, anche verso la fine, dal 2025, per conto mio, perché non è giusto, non è giusto i saldi così presto, non sono giusti. Non è serietà professionale, perché noi siamo vecchi commercianti con una certa serietà. Parliamo d'altro, anche Cassonnovo ricorda Gianluca Vialli, attaccante della Nazionale, della Juventus, scomparso di recente per un tumore alla pancreas. Vialli nel 2015 aveva aiutato a salvare la Procassolo, la squadra all'epoca del paese, durante il reality. Squadre da Incubo, vediamo. Gianluca Vialli è rimasto a Cassonnovo solo cinque giorni, ma qui a distanza di anni se lo ricordano ancora tutti. Era il 2015 e l'ex bomber della Juventus partecipava con Lorenzo Amoruso alla trasmissione Squadre da Incubo, reality che si proponeva, con l'aiuto dei due esperti, di risollevare formazioni calcistiche in difficoltà. La loro missione era aiutare la Procassolo, ultima in classifica in seconda categoria. L'allora presidente Danilo Ghera racconta di un paese in ebollizione. Sembrava una mocca che stava per fare il caffè, si sentiva nell'aria che c'era qualcosa di importante che comunque stava per avvenire. In un paese che è tradizionalmente molto tranquillo, dove si vive bene, ma non ci sono delle grandissime cose. Sapere che dovevano arrivare Vialli e Amoruso, che comunque anche Amoruso, come ti dicevo, ha una carriera alle spalle di un certo livello, ha creato sicuramente delle aspettative. Mi ricordo che si iniziò provando a fare gli allenamenti un po' a porte chiuse, ma poi diventava molto complicato. La sera infatti veniva la gente. Vialli, così come Amoruso, non si risparmiarono. Oltre a dare preziosi consigli alla società, i calciatori si immersero completamente nella vita del paese, buttandosi in mezzo alla gente. Una polentata aperta a tutti, dove a metà serata arrivarono Gianluca e Lorenzo e si concessero completamente alla gente con chiacchiere, autografi, selfie, video. La società inizialmente era riluttante a partecipare al reality, fu proprio la scoperta della presenza di Vialli a sbloccare la situazione. Le perplessità erano tante da parte nostra, perché comunque il nome stesso del Forma, squadra da incubo, non era molto gratificante per i nostri ragazzi, ma anche per noi. Avevamo tante perplessità in merito e tanti dubbi. Dopo una serie di incontri, come ti dicevo prima, un uccellino all'orecchio mi disse che uno dei protagonisti era Gianluca Vialli. E a quel punto, prima di tutto perché sono uno juventino fino al midollo, ma comunque per quello che rappresentava e aveva rappresentato Vialli, non potevo togliere ai ragazzi una possibilità del genere. Oggi la Pro Cassolo non esiste più e è di fatto confluita nella Cassolese. Quella stagione 2015-2016 però ebbe lieto fine. La visita di Vialli e Amoruso segnò la svolta e la squadra conquistò una salvezza che prima del loro arrivo sembrava irraggiungibile. Ha lasciato davvero quella cosa che aveva lui sull'importanza dell'impegno e sull'importanza del gruppo. A partire veramente dalla società fino ad arrivare, dire l'ultima ruota del carro non suona bene, però alla persona, l'ultima veramente del gruppo. Cioè per lui tutti dovevano remare dalla stessa parte e l'obiettivo doveva essere sempre comune nei momenti di gioia, nei momenti di difficoltà. Loro sono arrivati in un momento di grande difficoltà e quello che hanno lasciato più di tutto, al di là delle nozioni che hanno insegnato ai ragazzi in quei giorni, che sono fondamentali dal punto di vista calcistico, è stata proprio questa voglia di creare un gruppo per poter raggiungere tutti insieme un obiettivo. e alla fine ce l'hanno fatta perché poi noi ci siamo salvati, eravamo in una situazione veramente imbarazzante. La testa è cambiata tanto da quel punto di vista lì, il gruppo si è creato proprio in quel momento. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata con Milano Capitale e Naviglia a seguire oltre Po e Terre Lombarde. Grazie come sempre per averci seguito, una buona serata a tutti. Grazie a tutti.